Per me è quinto all'Ivan Matteo Clintin perché stavolta non ha po' gaccia e non ha po' gaccia, questo vi sto dicendo i primi 5 dell'UV, quinto all'Ivan Clintin perché non ha po' gaccia ed è forte anche in volata. Quarto per me è l'Ivan Pedersen perché è forte in volata e ha dimostrato una buona condizione al Giolefian, adesso vi dico il Lè. Terzo per me è l'Ivan Vosvanath perché è in volata e va forte, la Lubei quest'anno per me riuscirà a farla, cioè riuscirà ad andare bene quindi è l'Ivan Terzo. Vandelpule invece per me è lì verrà secondo perché ha vinto la mia nusolema, è arrivato secondo a finale, due anni fa è arrivato terzo alla Lubei e quindi lui va forte alla Lubei. Ah scusate, Vandelpule per me è arrivato primo, invece secondo per me è arrivato grande perché alla mia nusolema è arrivato quarto e per me è in forma e la Lubei l'ha vinta anche quando era nei livelli più bassi. E quindi per me è arrivato secondo e quindi per me è arrivato secondo e prima vandelpule. Adesso non vi posso fare vedere il video ma gentili spettatori speriamo di vedere una bella Lubei e speriamo di vedere uno spettacolo. Se piove ancora più belle ma ho visto il metro e non piove quindi speriamo che sia un bel polverone, una bella classica a Lubei. Quindi ciao a tutti e bella gas!